Allora, adesso vi faccio vedere questa camera spettacolare. Allora, iniziamo dalla prima sorpresa che ci hanno fatto. Guardate, personalizzate con i nostri nomi. Stupendo! Poi qui è in all inclusive, quindi tutto ciò che è all'interno del minibar incluso. Buono, sì! Guardate che dettagli meravigliosi! Mamma mia! Guardate qui! Questi mobili in stile inglese sono stupendi! Guardate questa vasca che dà sul bus! È difficile la doccia! Guate! Guardate!